Che ti è successo oggi? Perché? Quel vestito te lo metti una volta all'anno e cioè a Natale Da oggi lo metterò spesso È la mia tenuta da lavoro Guardandoti si direbbe che lavori per qualche boss Mi occupo della sicurezza alle porcellane Falkenthal Lavori a fianco di quegli org Quando la finirai di brontolare? Preferisco fare l'addetto alla sicurezza Che il factotum di casa Grafenberg Che gioia essere sorvegliata da tuo fratello giorno e notte Si dice vigilanza a tempo pieno Sì, ma non devi preoccuparti Avrò a malapena il tempo di passare a salutarti Già, perché in una fabbrica di porcellane Garantire la sicurezza è un incarico molto importante Mai sentita l'espressione spionaggio industriale? Mai sentita l'espressione vita privata? Sulla tua vita privata sono tutti molto informati Grazie a te che sei andato a raccontare a Coglia Che mi sono dimenticata del nostro appuntamento Perché io e Tim avevamo di meglio da fare Però era vero? Non l'ho fatto di proposito Non è che questo migliori le cose? Sì, è vero Non può finire così tra di voi Cara sorellina Se hai un amico come Coglia non lo abbandoni Solo perché la tua prima volta è stata con un altro ragazzo Ormai ho provato di tutto per farmi perdonare Ma non mi ascolta nemmeno più Allora vedi di farti venire in mente qualcosa Consigli da te non ne accetto Tu non sei certo un campione di buone amicizie O di rapporti stabili o duraturi Al posto di Coglia farei lo stesso E non mi lascerei trattare così Patrizia, c'è una cosa che devi firmare Il contratto di Julia Schilling? Non è detto che ci pensavi tu? Senza la tua firma non posso consegnarglielo E perché ti serve la mia firma? Perché sei tu che dirigi il reparto design In fondo si tratta di questo Le disegni per il tuo reparto Io vorrei restarne fuori Ormai ci sei dentro quanto me E non puoi più tirarti indietro Devo firmarlo per forza Se preferisci posso farlo firmare a tuo zio Frederick Ma non so come la prenderebbe Ma c'è anche un duplicato Che verrà distrutto subito dopo che Julia Schilling avrà firmato Anche se sostenesse che il contratto è stato violato Non ci sarà nessun duplicato a dimostrarlo Ma sull'originale la mia firma non si può cancellare È una disegnatrice Potrebbe aver falsificato la tua firma Sarà la sua parola contro la tua Spero che questo non sia il mio foglio di licenziamento No, al contrario Questo sarà il tuo passaporto per il successo nell'azienda E nel mercato delle porcellane Grazie ancora per avermi accompagnato a casa ieri sera L'ho fatto volentieri E comunque non ho chiuso occhio Non facevo che pensare a noi due Sei rimasta delusa Perché non ho voluto che restassi da me? No, anzi La penso come te Ogni cosa va fatta a suo tempo Io penso che così sia meglio Per entrambi Sì, e sarà anche più bello se non faremo passi affrettati Ascoltasi, che Qui dentro non è bene che tutti vengano a sapere Quello che c'è tra noi due E perché? Lo sai che le persone chiacchierano Non appena giriamo l'angolo Chissà cosa non direbbero È vero Perciò fingeremo Di essere semplicemente due colleghi Sì A dopo, signorina Mertens Ci vediamo, signor Schwarz Ma questo l'avevo regalato a te Che c'è? Non ti piace più? No Sai che ci tengo Non volevo che si sporcasse Visto che ti piace così tanto Dovresti metterlo in una cornice No, meglio lasciarlo nella tua cartellina Finché non avremo una casa nostra Ma questa sto per consegnarla Ormai ho venduto tutti i miei disegni all'azienda Cosa? Già Ma come? Non ci crederai Entreranno in produzione E porteranno la mia firma Io non capisco Com'è possibile? Annabelle Grafenberg ieri al bar mi ha implorata perché le consegnassi i miei disegni E tu hai accettato? Ti ha offerto dei soldi? Ha provato a offrirmi di tutto ma io ho preferito avere la mia firma sui disegni E non hai chiesto alcun compenso? Avrò il mio compenso ma non lo faccio per denaro Gliele darai praticamente gratis Un'altra occasione perduta In che senso scusa? Io da tempo avrei voluto parlartene Ma poi... Cosa c'è mamma? Però mi prometti che non te la prenderai? Annabelle Grafenberg mi ha offerto una cifra enorme Se io le avessi portato i tuoi disegni Ah, signorina Grafenberg Cercavo proprio lei Fantastico Io però non la cercavo Perché è sempre sgarbata con me? Non le ho fatto niente di male Mi basta la sua presenza Da oggi avrò Nico come braccio destro Non mi vedrà più molto Dovrei essermi contenta Due idioti al posto di uno solo Lei potrebbe essere una donna affascinante Se volesse Perché non si cerca una bella pianta d'appartamento? Così ci parla quando vuole Speravo mi potesse aiutare Perché ho un problema Non uno solo mi pare Ma ne ho uno che la riguarda Lei è Julia Schilling Non riesco ad immaginare di che problema si tratti Suo zio mi ha affidato un incarico Che capo della sicurezza sarei Se non lo tenessi informato Su tutto quello che succede in azienda Ah sì? Ma perché? Che cosa succede? Per esempio Che i premiati bozzetti rosa canina Non sono suoi Ma certo che sono miei Allora mi domando Perché sua madre è disposta a pagarli Diecimila euro a Christa Schilling È una menzogna Ci sono le prove Sta bleffando Yorg Giudichi lei stessa Direttamente dall'ufficio di sua madre Qualità del suono perfetta Diecimila euro? Mi dispiace Julia Ma con quel denaro Avremmo finalmente risolto i nostri problemi Ah E come l'avrei presa io Non ti interessava, vero? Ho anche avuto un anticipo E vedo che l'hai subito speso Sì, ma poi quel denaro gliel'ho ridato Come se cambiasse qualcosa In fondo non è successo niente E lo chiami niente? Sei scesa a patty alle mie spalle Con Annabelle Grafenberg E mi hai mentito di proposito, mamma Volevo soltanto Che ogni problema si risolvesse Tu hai bisogno di soldi per gli studi E Tobias per l'impianto di riscaldamento Sono tutte scuse Appena hai sentito parlare di denaro Ti è subito tornata la voglia di giocare Quel denaro l'ho restituito Sta tranquillo Mi hai mentito di proposito, mamma Mi hai mentito e raggirata Come potrò fidarmi di nuovo? Ma di me potrei sempre fidarti È così Julia Non guardarmi in quel modo Julia, ti prego Parliamone Vado di fretta Mi dispiace Julia Non riesco ancora a crederci Mia madre è caduta nella rete di Annabelle Grafenberg E che sapeva benissimo Di poter far leva sul suo vizio del gioco Solo dopo che il suo piano è saltato Si è rivolta a me Vorrei tanto prenderla a schiaffi Invece di darle i miei disegni In questo modo però Danneggerei non soltanto me stessa Ma anche l'azienda E Daniel Sembra Più Io Grazie a tutti.